una così lo sporto deve avercelo nel sangue e nella testa da sempre sarà per questo che ancora piccolissima restava affascinata dai cartoni animati come tutti i bambini ce n'erano per alcuni che amava più degli altri e che avrebbero segnato il suo futuro quelli sulla pallavolo guardando quei disegni che lottavano per una vittoria si sentiva felice proprio come si sarebbe sentita di via poco giocando davvero in una squadra di volo nata a rapallo il 17 settembre 1977 inizia a praticare sport da giovanissima sviluppando doti fisiche e atletiche fuori dal comune la sua grinta innata insieme ad un fisico statuario la lanciano nella pallavolo a livello agonistico nel 1992 ad appena 15 anni quando inizia la sua carriera giocando in serie d per la libertas rovigo basta un anno e simona ancora adolescente è chiamata dalla vbc cassano per disputare il campionato di b1 lei però mira ancora più in alto e si vede dopo essersi fatta le ossa nelle serie minori arriva così anche l'esordio in serie a 2 nella stagione 1994 95 con la squadra di reggio calabria in calabria simona trova una dimensione adatta a lei che le permette di crescere e non solo professionalmente dall'alto del suo metro e 85 e dalla sua posizione di centrale infatti conquista sul campo l'affetto del pubblico la stima della squadra e le lodi dei giornalisti sportivi arrivando nella stagione 95 96 a giocare finalmente in serie a 1 con la formazione calabrese gioca per ben 7 stagioni postandosi poi a reggio emilia e perugia per arrivare infine a giocare in russia dove dopo una breve pausa di nuovo in italia gioca tuttora senza dimenticare la maglia della nazionale che simona conquista per la prima volta il 30 maggio 1998 mamma fast questo il suo soprannome gioca ogni partita con energia e determinazione una capacità unica che le ha fruttato una serie di vittorie e trofei impressionante ha vinto tre volte il campionato italiano ed una volta quello russo cinque coppe italia ed una nazionale russa due supercoppe italiane due champions league e tre coppe cev di pallavolo femminile senza contare gli ori vinti con la nazionale nei campionati europei del 2007 e 2009 nella coppa del mondo del 2007 e nella grand champions cup del 2009 e i giochi del mediterraneo 2009 vittorie di squadra che si uniscono ai riconoscimenti personali miglior muro miglior attaccante per due volte miglior giocatrice nella coppa ceva 2007 e nella champions league 2009 e ancora per due volte miglior giocatrice e miglior schiacciatrice con la nazionale sia la coppa del mondo del 2007 sia la champions cup del 2009 una donna che ha saputo regalarci emozioni fortissime facendoci appassionare alla pallavolo forse mai come prima d'ora alimentando l'orgoglio di essere italiani e di tifare per lei avvicinando le giovani generazioni ad uno dei più appassionanti sport di squadra questa è simona gioidi una campionessa infinita